Quali sono i consigli che chi scia e chi frequenta le piste da sci dovrebbe rispettare? Consigli utili e pratici per i turisti sul comprensorio scistico sono soprattutto a livello comportamentale. Esistono delle norme comportamentali, un degalogo dello sciatore, legiferato dalle leggi regionali che si rifanno a una legge nazionale. Il nostro servizio sulle piste da sci, oltre ad essere soccorso sanitario, è anche di prossimità nel controllo e rispetto di queste normative e articoli di legge che possono essere dalla velocità, dal rispetto della segnaletica, dalle precedenze e soprattutto norme comportamentali nel momento in cui, in giornate molto ricche di turisti sulle piste affollate, cercare di avere un atteggiamento nel rispetto proprio di se stessi in maniera tale da non creare danni e problemi a persone e a se stessi. In base alla vostra esperienza, gli sciatori sono disciplinati oppure tendono un po' a dimenticarsi di queste norme di sicurezza? Allora, negli anni il nostro servizio ha contribuito sulle piste di sci del territorio nazionale a dare una dimostrazione che gli sciatori cominciano ad essere abbastanza educati. Certo, l'eccezione che conferma la regola ci sarà sempre, comunque notiamo che negli anni c'è un atteggiamento nei confronti del rispetto della normativa molto sentito dai turisti stranieri e italiani. Una dritta pratica, magari per chi non è tanto abile sugli sci, muove i primi passi? Allora, sicuramente un consiglio che do, soprattutto ai maggiorenni, quindi dai 18 anni in su, comunque l'utilizzo del casco, perché è un presidio o sicuramente un dispositivo di protezione individuale che nel contesto del sciistico è fondamentale, è un salvavita, parliamoci onestamente. Comunque, educare sin da bambini nel rispetto soprattutto del comprensorio, quindi cercare di ottenere quella educazione da parte di tutti dove è possibile utilizzando protezioni individuali, paraschiena, casco, come ho detto prima, e soprattutto una leggera preparazione pre-stagione in maniera tale da poter affrontare in maniera serena le varie vacanze e le varie settimane bianche.